C'è una nuova e concreta opportunità per le imprese culturali non profit composte da giovani. È il bando F Under 35 che mette a disposizione 2 milioni e 650 mila euro di risorse private per sostenerle, accompagnarle e rafforzarle sia sul piano organizzativo che gestionale premiando gli aspetti innovativi. L'iniziativa che in Emilia Romagna coinvolge le province di Bologna, Modena, Parma e Ravenna è rivolta alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro e dunque imprese sociali, cooperative, associazioni culturali, onlus, fondazioni, composte in prevalenza da giovani di età inferiore ai 35 anni, impegnate principalmente nell'ambito della produzione artistica o creativa in tutte le sue forme, da quelle tradizionali a quelle di ultima generazione o nell'ambito dei servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla protezione e alla circolazione dei beni e delle attività culturali. Questo tipo di soluzione, nata nel 2012, è promossa da 18 fondazioni, tra cui anche la Fondazione Cari Parma. Attraverso il bando annuale vengono individuati migliori progetti presentati da organizzazioni culturali senza scopo di lucro, offrendo loro un'opportunità di crescita e di sviluppo attraverso un contributo economico a fondo perduto e un'attività di accompagnamento che prevede anche un supporto formativo ed una serie di facilitazioni. I progetti dovranno avere una durata massima di tre anni e richiedere un contributo non superiore al 75% dei costi totali. Le proposte dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2015. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Fondazione Cari Parma.